Stroncato dalla malattia, nella serata di ieri 18 luglio, all'età di anni 58, ha reso l'anima a Dio Don Erminio di Bello. Si legge nella nota diocesana, il vescovo, il presbiterio e l'intera chiesa diocesana di Lucera Troia affidano al Signore della vita il reverendo parroco Don Erminio di Bello, che dopo una lunga malattia ha raggiunto la patria del cielo. Mentre ringraziano il Signore per il dono della sua persona e del suo ministero a servizio di questa chiesa, lo raccomandano alla preghiera e alla carità di suffraggio di quanti lo hanno conosciuto. Le sequie saranno celebrate domani, venerdì 20 luglio, alle ore 10, nella cattedrale di Lucera, presedute dal vescovo Monsignor Giuseppe Giuliano. Don Erminio era nato il 24 agosto 1959 ed ordinato sacerdote per la diocesi di Lucera il 24 marzo 1984. Era parroco della parrocchia di Santa Maria della Spiga in Lucera. Già parroco della parrocchia di Casalvecchio di Puglia e di Santa Maria delle Grazie in Lucera, è stato per diversi anni direttore della Caritas Diocesana.